Una Milano sempre più calda, caratterizzata nell'ultimo decennio da una temperatura media di 15,8 gradi rispetto ai 14,3 del periodo 1981-2010 e nella quale il fenomeno dell'isola di calore determina temperature più alte nel centro rispetto alle periferie. Nel capoluogo lombardo poi piove molto meno frequentemente rispetto al passato, ma con maggiore intensità. 12 mm di pioggia all'ora, la media calcolata per il mese di luglio nel periodo 2013-2018 contro gli 8 mm orari dell'arco temporale 1998-2018 e le differenze meteorologiche sono sempre più accentuate non solo tra una città e l'altra, ma anche all'interno dello stesso territorio urbano. A Milano diciamo che le temperature proprio misurate in città stanno velocemente aumentando sia come temperature medie che come temperature massime e minime e la città non è omogenea dal punto di vista dei valori, dei vari parametri tra cui la temperatura, che anche questo è importante per la pianificazione e per la progettazione, ma a seconda degli indicatori ci sono forti differenze tra il centro, il nord, il sud, l'est e l'ovest della stessa città di Milano, con conseguenze sui consumi energetici, sul benessere percepito, sull'incidenza delle ondate di calore. È questo quanto emerge dal database climatologico del primo anno del progetto Climami, Climatologia per le attività professionali e l'adattamento ai cambiamenti climatici urbani nel milanese, promosso da Fondazione OMD Osservatorio Meteorologico Milano Duomo in collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, la Fondazione Ordine degli Ingegneri e Fondazione Ordine degli Architetti, cofinanziato da Fondazione Cariplo. Noi riusciamo a utilizzare le conoscenze della meteorologia in funzione del cambiamento climatico esistente e previsto per la progettazione degli edifici e per la pianificazione urbanistica con criteri di sostenibilità e di resilienza. Il database Climami, presentato oggi a Palazzo Pirelli, fornisce una fotografia dettagliata del clima locale dell'ultimo decennio che evidenzia la distribuzione dei fenomeni climatici e meteorologici nel milanese e la loro evoluzione nel tempo e che rappresenta un importante strumento per valutare e finalizzare l'adozione di scelte più sostenibili a disposizione delle categorie professionali che si occupano di progettazione e gestione del territorio urbano. Va tenuto effettivamente in conto la relazione bidirezionale che c'è tra clima e città. Con l'aumentare dei fenomeni di impatto del cambiamento climatico, in particolare ondate di calore e episodi intensi e brevi di precipitazioni che causano spesso gli allagamenti, occorre che la città in qualche modo sia adatti, quindi cercando di ombreggiare il più possibile lo spazio pubblico per minimizzare l'impatto delle ondate di calore, dovendo gestire e con l'uso del suolo e con altre opere di tipo tecnologico-ingegneristico, ad esempio il deflusso delle acque meteoriche durante gli eventi precipitativi. C'è tutto un elenco di attività. Una prima applicazione pratica è stata sperimentata nel comune di Melzo. Abbiamo delle aree pilota, una è la città di Melzo in cui nella pianificazione urbanistica presente e del prossimo futuro verranno tenute in conto questi approcci, queste metodologie e anche gli strumenti di conoscenza che fornirà il progetto attraverso una banca dati molto ricca che viene messa a punto grazie soprattutto all'azione della Fondazione Osservatorio Milano Duomo.